Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parliamo dell'incastellamento. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi ritrovate come Diario di Charlotte. Nella scorsa video lezione abbiamo parlato dell'impero dopo Carlo Magno. Vi lascio qui la video lezione. Ora vediamo però un fenomeno molto importante che caratterizza proprio questo periodo ed è detto incastellamento. Infatti, a causa degli invasioni degli Ungheri, dei Saraceni, dei Normanni, abbiamo questo fenomeno che prevede proprio la costruzione di castelli e fortificazioni per ripararsi dalle incursioni di questi popoli. Questo fenomeno si svolge al di fuori del controllo dei sovrani ed è detto per l'appunto incastellamento. Ricordiamoci che nell'ottocento 77, con il capitolare di Cersi, Carlo Calvo riconoscerà l'eredità dei feudi. Quindi il legame vassallattico diventerà ereditario. Si costruiscono i castelli. La parola castello viene dal latino castrum, accampamento. Quindi non immaginiamoci il castello delle fiabe, il castello della Walt Disney, immaginiamoci dei castelli funzionali alla fortificazione, funzionali alla protezione, agli accampamenti. Poi Castellum diventerà diminutivo di castrum. Infatti, nel nono secolo, com'erano i castelli? Erano dei villaggi fortificati, costruiti sulle altuere, chiusi da palizzate in legno o anche da mura di pietra. L'edificio del Signore era posto al centro del complesso, ma le finestre e le porte erano molto piccole, addirittura spesso raggiunte con la scala a pioli. Quindi non pensiamo ad entrate sfavillanti, ma pensiamo a una fortificazione, a un edificio funzionale proprio alla protezione e al riparo. Poi, dall'undicesimo secolo, i castelli iniziano a diventare dei singoli edifici e all'interno delle loro mura, per esempio, sorge anche il maschio. Quindi la torre robusta cambia gradualmente il castello. Cambia gradualmente e diventa un edificio sempre più complesso. Infatti, abbiamo sistemi difensivi più all'avanguardia, fossati, ponti levatoi. I castelli sono caratterizzati inoltre da torrette e da merli. I merli sono dei piccoli ripari regolari, che possono essere rettangolari e possono essere a coda di rondine. Riprendono questi nomi la suddivisione tra guelfi e ghibellini, perché riprendono l'arte tedesca. Comunque sia, i guelfi, ci ricordiamo, erano i sostenitori del papa, del primato del potere papale, su quello temporale, mentre i ghibellini, al contrario, sostenevano il primato del potere temporale su quello papale. Il fenomeno, dunque, dell'incastellamento che abbiamo visto cambia anche proprio la natura stessa del castello tra il IX e l'XI secolo. E' un fenomeno caratterizzato e caratteristico del feudalesimo. Infatti, i feudatari vogliono proteggersi dagli assalti, dalle incursioni esterne, però allo stesso tempo vogliono anche rappresentare il loro potere. E come lo fanno? I feudatari, da una parte, usurpano i poteri pubblici, pretendono che i contandini difendano la fortezza, quindi il castello, e allo stesso tempo giudicano controversie e puniscono criminali. Quindi i feudatari prendono sempre più potere, lo accentrano sempre di più, e il castello diventa anche proprio la rappresentazione di questo potere, una manifestazione visiva, oltre che una fortificazione necessaria per la protezione, di un potere che si sta affermando. Infatti, i feudatari iniziano ad esercitare il vero e proprio banno. Hanno, come vi dicevo già prima, il potere di giudicare, di costringere, di punire, e dall'undicesimo secolo usano questo potere su tutti coloro che risiedono nelle vincinanze di che cosa? Del loro castello. Quindi, ormai, il signore, anche grazie proprio al castello e al simbolo che rappresenta, riesce a far valere il suo potere. Inoltre, con la signora di banno, viene anche meno la distinzione tra gli schiavi e gli uomini liberi per quanto riguarda il servaggio, perché tutti sono costretti a sottostare gli stessi obblighi se si trovano nelle vicinanze del castello. Quindi nasce un unico ceto di contadini che sono soggetti al signore e al servaggio. Questo è in poche parole un fenomeno davvero importante, che è quello dell'incastellamento che caratterizza proprio il basso medioevo. Alla prossima video-lezione! Al prossima video-lezione!